Promosso. I ragionamenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Comunale di Belluno, momento culminante della visita presidenziale nel bellunese, hanno riscosso un plauso pressoché unanime. Il discorso incentrato sui cambiamenti climatici, sulla difesa dalle calamità e sulla necessità di un percorso che parta proprio dai territori più fragili, nello specifico quelli di montagna, è stato apprezzato da più parti. Lo ringrazio, dichiara il deputato pentastellato Federico Dincà, anche perché con questa visita dimostra grande vicinanza a una comunità che è stata ad esempio per tutto il paese con i suoi volontari, con la protezione civile, con il prefetto Francesco Esposito, con le forze dell'ordine e con tutta la sua parte amministrativa che insieme ai cittadini hanno lavorato alacremente durante e dopo l'evento calamitoso dello scorso anno. Ho trovato estremamente profondi i ragionamenti che ha fatto, commenta invece Luca De Carlo, sindaco di Calalzo e deputato dei Fratelli d'Italia. Ora, messe da parte le commemorazioni, dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza le vie di comunicazione, le abitazioni e i luoghi pubblici, consci del fatto che questo richiederà molto tempo e porterà numerosi disagi. L'UNCEM, Unione Nazionale Comuni e Enti Montani, elogia il riferimento alla montagna come luogo da qui ripartire. Questo, si legge in una nota, deve essere il monito definitivo per la politica, per tutti i nostri enti, per il Parlamento e il Governo, affinché mettano in moto azioni concrete, investimenti nel concretizzare pienamente l'articolo 44 della Costituzione. Il riferimento è all'ultimo passaggio di quell'articolo, la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Mattarella si è soffermato molto sul tema dei cambiamenti climatici, con soddisfazione di Greenpeace Italia. Ci ha ricordato, dichiara il direttore esecutivo Giuseppe Onufrio, quanto sia necessario che il rispetto dei limiti naturale sia non solo parte integrante della vita di ognuno di noi, ma anche delle decisioni che prendono i nostri amministratori e coloro che sono responsabili delle scelte politiche. Le conseguenze di queste decisioni, dalla più piccola alla più grande, peseranno sulle spalle dei nostri figli e nipoti più ancora che sulle nostre.